Questo è il preservativo femminile, Femidon, ed è fatto appunto a forma di sacchetto. Presenta all'interno un anello, un anello vaginale, che aiuta, diciamo, questo preservativo... Quindi è staccato, non fa parte. Sì, 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 no, lo aiuta semplicemente a prendere questa forma ed essere inserito all'interno della vagina, in questo modo. Facci vedere come ti credo. Ve lo facci vedere io. Facci vedere. Allora, questo anello interno... Viene premuto a forma di otto, accompagnato qui dell'ingresso, quindi con delicatezza viene inserito, spinto, poi ci aiutiamo con il ditino interno a sospingerlo fino a che non prende la sua posizione anatomica, che non so se si riesce a vedere qui. E' appunto questo. Si è posizionato dove termina, insomma, il collo dell'utero. Questo anello esterno... Troviamo tutte le istruzioni bellissime qui. Esatto. Viene mantenuto qui all'esterno delle grandi labbra, in modo da dare una protezione completa anche a livello esterno. di conseguenza durante il rapporto sessuale non c'è contatto tra mucose che appunto possono essere uno dei metodi di contagio delle malattie a trasmissione sessuale. E quindi, di sicuro, il temido rappresenta uno dei metodi di prevenzione e di contraccezione. Fammi vedere com'è che si chiude. Allora... Come si chiude e chiude. Come andrebbe fatto. Va fatto un giro in modo da strozzare, insomma, il preservativo. Si sfila sempre molto delicatamente. Attenzione a non farvi male. Esatto. Si fa un nodo. E si butta. Esatto. Il liquido seminale non va disperso come se fosse acqua santa, assolutamente. Esatto. Vabbè, qui io eviterò di farlo di sciogliere. E poi si butta. E la stessa procedura dovrebbe essere eseguita per i preservativi maschili. Ecco. E in Donia abbiamo qua un esempio. Sì. Che è molto simpatico. Valentina già ci ha spiegato in puntata, ma la vogliamo anche ripetere questa forma simpatica. Sì, praticamente a differenza di un preservativo normale che abbiamo. Se volete lo possiamo cercare. Anzi, io direi di insegnare come metterlo. Dai, Rox! Soprattutto per insegnare io. Ma partiamo dalla confezione. Intanto dove lo tieni? Dove lo tieni? Non va tenuto in un posto caldo. È come per i prodotti freschi. Va tenuto in un luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore. E non nel portafoglio, nel cruscotto della macchina, del motorino. Non va tenuto nella tasca del jeans. Perché, insomma, è comunque un materiale... E quando dobbiamo portarcioli dietro? Dove si mettono? Adesso ci sono queste cose fighissime. Guardate, nella borsetta... Guardate alla vostra ragazza che sono vante in borsetta. Ci sono delle scatoline fatte apposta. Ecco, qui, magari qua, anche se tenuto nella tasca, ha una protezione maggiore perché c'è questo cartoncino che lo tutela dalla semplice bustina. Ma apriamolo, vediamo come si dice. Allora, questo è un po' di un cineso. Esatto, sì. Un po' dotato. La bustina ha una parte... È una parte zigrinata. No, no. Che dovrebbe aiutare, tac, l'apertura. Quindi, si prende il preservativo. Noi lo stiamo facendo così lento, ma in realtà è velocissimo. Quindi, cioè, usatelo. Non potemi spaventare dal tempo. No, si guarda la parte giusta dello srotolamento, si deve tenere il sacchettino che accoglierà quel liquido seminale, si infila... Non si fa presente in aria. Esatto, perché questo, come diceva bene Lidia, permette al preservativo di... Cioè, aderire. Esatto, grazie. Aderire. E per creare aria potrebbe poi... Potrebbe rompersi durante il rapporto e provocare anche del dolore, del sfregamento all'interno della donna, povera. Certo. Una volta terminato il rapporto, cosa bisogna fare? Tenendo sempre premuto, leggermente, qua in alto, si svita, si srotola. Ok, io ti accompagno. Ok, considerate che questo da così diventerà poi così. Questo va preso. Anche in questo caso. Anche in questo caso. Ragazzi, vi prego, fate il nodino. Non andate spargendo. Non è simpatico. Non è simpatico. Non scosta niente. Il seme. Non si spargere il seme. E così chiuso si butta. E si butta. Perché non vanno riutilizzati. Assolutamente. Sono monouso. E soprattutto, ragazzi, se volete vedere se il preservativo è buono, è integro, non gonfiatelo. No. Per poi riarrosolarlo. Perché non è un calzino. Vale. Assolutamente. Questo? Sì. Ma questo? Dimmi, Rosanna. Che cos'è? Rosanna? Non è affascinata. No, esatto. E come sono affascinata da questo? Cioè, non è un giocantolo per bambini, Rosanna. Questo è sempre un preservativo maschile, che ha però una particolarità, una particolare estremità, e cioè questa testolina. non è liscio come il preservativo normale e queste protuberanze, queste... le cornine, il musetto, a quanto pare, durante il rapporto stimolano e creano maggiore eccitazioni durante il rapporto sessuale. Ah, lo regaliamo alla rosso. Grazie, guarda. Grazie, me ne compro un altro. Cos'è che faccio? Adesso riavvolgo un calzino. Softia lo prima per vedere. Funziona! E vai! Però questo lo tieni solo per giocarci. Va bene. Sì, in un uovo fresco, asciutto, allontano da fonti di calore. Ti lascio anche il bananino. E infine, in ultimo, dulcesi in fondo, abbiamo anche questo. Esatto. Che volevamo... Scusa. Tira, tira. Anche questa è la riproduzione. Non è il carillon. No, non è che poi adesso inizia a girare la vagina. E mi insegni la spirale, giusto? No, l'anello vaginale. Sì, l'anello vaginale. No, la spirale là occorrerebbe un medico per... Ok, per inserirlo. Ed è una spirale. È, diciamo, consigliato per le donne che hanno già avuto una gravidanza. Ok. Questa è l'anello vaginale e anche questo, come quello che abbiamo visto prima del femido, il principio è sempre lo stesso. Quindi viene premuto a formare. Tu lo accompagni e lui si è adatta. Si accompagna, esattamente. Si accompagna, si sospinge leggermente in modo che lui, ecco, vedi, anatomicamente si posiziona in modo da garantire. Allora, l'anello vaginale però ha una sola precauzione a livello contraccettivo. Quindi evita il rischio di gravidanza, ma non previene e non protegge dai rischi di malattia a trasmissione sessuale. Perfetto. Grazie Valeria. Grazie Valeria. Grazie a voi. Perfetto. Grazie a voi. Tu dici un anello. Perfetto. Perfetto. Perfetto.